Come, children of the Lord, let us sing with one of God, let us praise our joyful strength to a Lord who soon will reign. Dal centro delle conferenze di Salt Lake City vi trasmettiamo la sessione del sabato mattina della 193esima Conferenza Generale di Aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta da The Tabernacle Choir e Temple Square. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il Presidente Dallin H. Hawks, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione. Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione del sabato mattina della 193esima Conferenza Generale di Aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e diamo un caloroso benvenuto anche ai membri e gli amici di tutto il mondo che seguono questa conferenza, ovunque si trovino. Il Presidente Russell M. Nelson, che presiede la conferenza, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Riconosciamo la presenza alla conferenza delle autorità generali e dei funzionari generali. Constatiamo l'assenza dell'anziano Jeffrey R. Holland, che non potrà unirsi a noi a causa del Covid. Le nostre preghiere sono con te e con la sorella Holland. Sentiremo molto la tua mancanza. La musica per questa sessione sarà offerta da The Tabernacle Choir e Temple Square sotto la direzione di Mac Wilberg e Ryan Murphy e con l'accompagnamento all'organo di Richard Elliot e Brian Matthias. Nel corso di questa conferenza, il Tabernacle Choir sarà accompagnato da membri internazionali arrivati a Salt Lake City dal Brasile, dal Ghana, dalla Malesia, dal Messico, dalle Filippine e da Taiwan. Il coro ha aperto la riunione cantando Forza figli del Signor e ora ci farà ascoltare O Re d'Israele. Poi la preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Benjamin M.Z. Thai dei Settanta. Fristano San Paci Orsi 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 Grazie a tutti. 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 Siamo grati per i tuoi servitori, per i profeti e gli apostoli dai quali riceveremo guida e istruzione a questa conferenza. Ti chiediamo che il tuo spirito possa essere con noi mentre apriamo le nostre orecchie, i nostri cuori, i nostri occhi per poter avere la nostra anima illuminata dalla tua volontà. Ti preghiamo affinché possiamo essere più coraggiosi e più sicuri e capaci per rappresentare tutti i tuoi figli. Questa è la nostra preghiera. Nel nome del nostro Salvatore Redentore, Gesù Cristo, tuo figlio. Amen. A seguire ascolteremo l'anziano Carl B. Cook della Presidenza dei Settanta e l'anziano Garrett W. Gong del Quorum dei Dodici Apostoli. Probabilmente ricorderete di aver sentito leggere una lettera della Prima Presidenza nel vostro rione o ramo diverse settimane fa. Quella lettera annunciava che domenica prossima, la domenica di Pasqua, tutti i rioni e i rami devono riunirsi solo per la riunione sacramentale, lasciando più tempo per rendere il culto a casa e in famiglia, al fine di commemorare questa festa così importante. La lettera della Prima Presidenza ha attirato la mia attenzione e mi ha fatto riflettere sul modo in cui la nostra famiglia ha festeggiato la Pasqua nel corso degli anni. Più pensavo ai nostri festeggiamenti, più mi sono ritrovato a chiedermi se stiamo inavvertitamente sminuendo il vero significato di questa festa, così centrale per tutti i credenti in Gesù Cristo. Questi pensieri mi hanno portato a meditare sulla differenza tra come abbiamo festeggiato il Natale e come abbiamo festeggiato la Pasqua. Nel corso del mese di dicembre, in qualche modo riusciamo ad accostare il divertimento di Jingle Bells, delle calze natalizie e dei regali, ad altre tradizioni più profonde, come prendersi cura dei bisognosi, cantare i nostri canti e inni di Natale preferiti e naturalmente aprire le scritture e leggere la storia di Natale in Luca 2. Ogni anno, quando leggiamo questa amata storia da una grande vecchia Bibbia, la nostra famiglia fa ciò che probabilmente fa la vostra, Vestiti con asciugamani sulla testa, indossando accappatoi per rappresentare Giuseppe, Maria e i molti che vennero ad adorare il bambino Gesù. Rievochiamo la preziosa storia natalizia della nascita del Salvatore. I festeggiamenti della nostra famiglia a Pasqua, tuttavia, sono stati alquanto diversi. Credo che per garantire la parte significativa e incentrata su Cristo della Pasqua, la nostra famiglia si sia affidata principalmente all'andare in chiesa. Poi, come famiglia, ci siamo riuniti per condividere altre tradizioni legate alla Pasqua. Mi è piaciuto molto guardare i nostri figli e ora i nostri nipoti andare a caccia delle uova pasquali e rovistare i cestini pasquali. La lettera della prima presidenza, però, è stata un campanello d'allarme. Non solo ha invitato tutti noi a fare in modo che la nostra celebrazione dell'evento più importante mai accaduto su questa terra, l'espiazione e la risurrezione di Gesù Cristo, includa la riverenza e il rispetto che merita il Signore, ma ci ha anche dato più tempo da passare con i nostri familiari e amici la domenica di Pasqua per poterlo fare. Queste parole del profeta Joseph Smith aggiungono maggior contesto al significato degli eventi legati alla Pasqua. I principi fondamentali della nostra religione sono la testimonianza degli apostoli e dei profeti riguardo a Gesù Cristo, che Egli morì, fu sepolto, risuscitò il terzo giorno e ascese al cielo. Tutte le altre cose inerenti alla nostra religione sono soltanto un complemento di ciò. Io e Lisa abbiamo parlato dei modi in cui la nostra famiglia può fare meglio durante il periodo pasquale. Forse quella che ci siamo posti è una domanda su cui tutti potremmo meditare. Come possiamo improntare l'insegnamento e la celebrazione della risurrezione di Gesù Cristo, la storia della Pasqua, con lo stesso equilibrio, pienezza e ricca tradizione religiosa della nascita di Gesù Cristo, la storia del Natale? Pare che tutti ci stiamo provando. Noto uno sforzo crescente fra i santi degli ultimi giorni verso una Pasqua più incentrata su Cristo. Ciò comprende un maggiore e più attento riconoscimento della Domenica delle Palme e del Venerdì Santo, come viene fatto da alcuni dei nostri cugini cristiani. Potremmo anche adottare tradizioni pasquali appropriate, incentrate su Cristo, che si trovano nelle culture e nelle pratiche dei paesi di tutto il mondo. Lo studioso del Nuovo Testamento, N.T. Wright, ha suggerito «Dovremo fare in modo di celebrare la Pasqua in maniere nuove e creative, nell'arte, nella letteratura, nei giochi per bambini, nella poesia, nella musica, nella danza, nelle commemorazioni, nell'uso delle campane, nei concerti speciali. Questa è la nostra più grande festa. Togliete il Natale e, in termini biblici, perderete due capitoli all'inizio di Matteo e Luca. Nient'altro. Togliete la Pasqua e non avete il Nuovo Testamento. Non avete una cristianità». Consideriamo la Bibbia preziosa per tutto ciò che ci insegna sulla nascita, sul ministero, sulla crocifissione e sulla risurrezione di Gesù Cristo. Non ci sono parole che contengano più speranza e siano di maggior rilievo eterno per tutta l'umanità delle due pronunciate da un angelo celeste la mattina di Pasqua presso la tomba del giardino. È risuscitato. Siamo profondamente grati per i passi scritturali del Nuovo Testamento che preservano la storia della Pasqua e del ministero pasquale del Salvatore in Giudea e Galilea. Mentre io e l'ESA continuavamo a meditare e a cercare dei modi per ampliare la nostra celebrazione familiare della Pasqua affinché fosse più incentrata su Cristo, abbiamo discusso di quale parte delle scritture avremmo potuto introdurre nella nostra famiglia come tradizione di lettura, l'equivalente di Luca 2 per la Pasqua, se vogliamo. E allora abbiamo avuto questa illuminazione celeste. In aggiunta agli importanti versetti sulla Pasqua del Nuovo Testamento, noi, come santi degli ultimi giorni, siamo investiti di un dono pasquale straordinario, il dono di una testimonianza speciale, un altro testamento del miracolo della Pasqua che contiene forse i passi scritturali pasquali più splendidi di tutta la cristianità. Mi riferisco ovviamente al Libro di Mormon e più specificamente al resoconto di Gesù Cristo che appare agli abitanti del Nuovo Mondo nella sua gloria quale essere risorto. Il profeta Joseph Smith descrisse il Libro di Mormon come il più giusto di tutti i libri. A partire da Terzo Nefi 11, esso racconta la magnifica storia della visita del Cristo risorto ai Nefiti, il Ministero Pasquale del Salvatore. Questi passi scritturali pasquali portano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù Cristo. In questi capitoli, Cristo chiama dodici apostoli, insegna ciò che aveva insegnato nel suo sermone sul monte, annuncia di aver adempiuto la legge di Mosè e profetizza il raduno di Israele negli ultimi giorni. Guarisce gli ammalati e prega per le persone in modo talmente glorioso che nessuna lingua può esprimere, né possono essere scritte da nessun uomo, né alcun cuore di uomo può concepire cose così grandi e meravigliose come quelle che noi vedemmo e sentimmo dire da Gesù. E nessuno può concepire la gioia che riempì la nostra anima quando lo sentimo pregare il Padre per noi. Questa Pasqua, la nostra famiglia si concentrerà sui primi 17 versetti di Terzo Nefi 11, che conoscete bene. Ricordate la grande moltitudine intorno al Tempio, nel paese di abbondanza, che udì la voce di Dio Padre e vide Gesù Cristo scendere dal cielo per estendere l'invito pasquale più bello. Alzatevi e venite avanti verso di me, affinché possiate sentire le impronte dei chiodi nelle mie mani e nei miei piedi, così che possiate sapere che io sono il Dio di tutta la terra e che sono stato ucciso per i peccati del mondo. E la moltitudine avanzò ad uno ad uno e videro con i loro occhi e sentirono con le loro mani e ne resero testimonianza che era Lui. E gridarono tutti di comune accordo dicendo Osanna, benedetto sia il nome dell'Altissimo Dio. E caddero ai piedi di Gesù e lo adorarono. Immaginate, i nefiti al Tempio toccarono effettivamente le mani del Signore risorto. Speriamo di rendere questi capitoli di Terzo Nefi parte della nostra tradizione pasquale tanto quanto lo è Luca 2 per la nostra tradizione natalizia. In realtà, il Libro di Mormon narra la più grande storia di Pasqua mai raccontata. Non lasciate che sia la più grande storia di Pasqua che non viene mai raccontata. Vi invito a guardare il Libro di Mormon sotto una nuova luce e a considerare la profonda testimonianza che esso porta della realtà del Cristo risorto come pure della ricchezza della profondità della dottrina di Cristo. Potremmo chiederci in che modo leggere i passi del Libro di Mormon a Pasqua può benedire in modo significativo la nostra vita e quella dei nostri cari più di quanto ci si possa rendere conto. Ogni volta che leggiamo e studiamo il Libro di Mormon possiamo aspettarci risultati straordinari. Di recente io e Lesa siamo andati alla camera ardente di una cara amica una donna di fede la cui vita è stata interrotta dalla malattia. Ci siamo riuniti con la sua famiglia e con i suoi amici intimi scambiandoci cari ricordi di questa bellissima anima. Mentre conversavo con gli altri a una certa distanza dalla bara ho notato due bambine in età da primaria avvicinarsi alla bara e mettersi in punta di piedi gli occhi che arrivavano appena al bordo per rendere l'ultimo omaggio alla loro amata zia. non essendoci nessun altro lì vicino Lesa le ha raggiunte silenziosamente e si è accovacciata accanto a loro per offrire conforto e insegnamento. Ha chiesto come stavano e se sapevano dove si trovava ora la zia. Hanno espresso la loro tristezza ma poi con la sicurezza che riempiva loro gli occhi hanno detto di sapere che la zia ora era felice e che poteva stare con Gesù. A quella tenera età hanno trovato pace nel grande piano di felicità e con il loro fare da bambine hanno testimoniato della profonda realtà e della semplice bellezza della risurrezione del Salvatore. Lo sapevano nel loro cuore grazie agli insegnamenti premurosi di genitori familiari e dirigenti della primaria amorevoli che hanno piantato un seme di fede in Gesù Cristo e nella vita eterna. Molte delle verità comprese da queste bambine sagge oltre i loro anni ci giungono tramite il messaggio e il ministero di Pasqua del Salvatore Risorto e le parole dei profeti come riportate nel Libro di Mormon. Ho notato che quando il presidente Russell M. Nelson regala il Libro di Mormon a qualcuno che non è della nostra fede compresi i leader mondiali spesso va a Terzo Nefi e legge dell'apparizione del Cristo risorto ai Nefiti. Nel farlo il profeta vivente sta in sostanza portando testimonianza del Cristo vivente. Non possiamo stare come testimoni di Gesù Cristo fino a quando non possiamo rendere testimonianza di Lui. Il Libro di Mormon è un altro testimone di Gesù Cristo perché nelle sue sacre pagine un profeta dopo l'altro attesta non solo che Gesù Cristo sarebbe venuto ma che Egli è venuto. Ho in mano una copia della prima edizione del Libro di Mormon. Prenderla in mano mi fa sempre commuovere. Per gran parte della mia vita adulta sono rimasto affascinato ammaliato e incantato da ciò che il giovane Joseph Smith ha fatto perché questo sacro libro di scritture fosse tradotto e pubblicato. Questo però non è il motivo per cui questo libro mi commuove. Il motivo è che questo libro più di qualsiasi altro mai pubblicato su questa terra rende testimonianza della vita del ministero degli insegnamenti dell'espiazione e della risurrezione di Gesù Cristo. Miei cari fratelli e sorelle studiare regolarmente questo libro vi cambierà la vita vi aprirà gli occhi a nuove possibilità accrescerà la vostra speranza e vi riempirà di carità più di ogni altra cosa svilupperà e rafforzerà la vostra fede in Gesù Cristo e vi benedirà con una conoscenza sicura che Lui e nostro Padre vi conoscono vi amano e vogliono che troviate la strada per tornare a casa con la C maiuscola Cari fratelli e care sorelle è giunto il tempo predetto dai profeti antichi in cui la conoscenza di un Salvatore si diffonderà per ogni nazione stirpe lingua e popolo tramite la testimonianza di Gesù Cristo che si trova nel libro di Mormo vediamo l'adempimento di questa profezia davanti ai nostri occhi nessun libro fa di più per dimostrare che grazie a Gesù Cristo tutto è cambiato grazie a Lui tutto è migliore grazie a Lui la vita è gestibile specialmente in momenti dolorosi grazie a Lui tutto è possibile la sua visita a quale Salvatore risorto introdotta da Dio Padre è un messaggio pasquale gloriosissimo e trionfante aiuterà i membri della nostra famiglia a ottenere una testimonianza personale di Gesù Cristo come nostro Salvatore Redentore il quale ha spezzato i legami della morte concludo con la mia testimonianza della verità del libro di Mormo e di Gesù Cristo come figlio del Vio Vivente nel nome di Gesù Cristo Amen Fratelli e sorelle cinque anni fa abbiamo alzato la mano per sostenere il nostro amato profeta il presidente Russell M. Nelson quale presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni il portavoce del Signore per questo straordinario periodo di crescita e rivelazione grazie a Lui abbiamo ricevuto innumerevoli inviti e ci sono state promesse benedizioni gloriose se incentriamo la nostra vita sul nostro Salvatore Gesù Cristo nel 2011 mentre io e mio marito servivamo come dirigenti di missione nella bellissima Curitiba in Brasile il mio telefono squillò durante una riunione affrettandomi a silenziarlo notai che la chiamata era da mio padre lasciai subito la riunione per rispondere ciao papà inaspettatamente la sua voce era piena di commozione ciao Bonnie devo dirti una cosa mi è stata diagnosticata la SLA la mia mente turbinava confusa aspetta che cos'è la SLA papà mi stava già spiegando la mia mente resterà vigile mentre il mio corpo si spegnerà lentamente mi sentì crollare il mondo addosso mentre cercavo di riprendermi da questa dolorosa notizia in quel giorno che non potrò mai dimenticare fu la sua ultima frase a trovare un posto permanente nel mio cuore il mio caro padre si affrettò a dire Bonnie non rinunciare mai all'opportunità di testimoniare di Cristo ho meditato e pregato in merito al consiglio di papà mi sono chiesta spesso se so pienamente cosa significa non rinunciare mai all'opportunità di testimoniare di Gesù Cristo di tanto in tanto mi sono alzata la prima domenica del mese e ho reso testimonianza di Cristo molte volte ho reso testimonianza delle verità del Vangelo in una lezione ho insegnato con coraggio la verità e ho dichiarato la divinità di Cristo come missionaria eppure questa supplica sembrava più personale sembrava che mi stesse dicendo Bonnie non lasciare che il mondo ti distragga rimani fedele alle tue alleanze con il Salvatore cerca di godere delle sue benedizioni ogni giorno e di essere in grado di testimoniare tramite lo Spirito Santo del suo potere e della sua presenza nella tua vita viviamo in un mondo decaduto con distrazioni che tentano di lusingare i nostri occhi e il nostro cuore ad andare verso il basso invece che verso il cielo proprio come i nefiti tra i nefi undici noi abbiamo bisogno di Gesù Cristo riuscite a immaginarvi lì tra le persone che avevano vissuto quello scompiglio e quella distruzione come sarebbe poter sentire l'invito personale del Signore alzatevi e venite avanti verso di me affinché possiate mettere le vostre mani nel mio fianco e possiate sentire anche le impronte dei chiodi nelle mie mani e nei miei piedi così che possiate sapere che io sono il Dio di tutta la terra e che sono stato ucciso per i peccati del mondo e la moltitudine avanzò ad uno ad uno finché ebbero veduto con i loro occhi e sentito con le loro mani e seppero ed ebbero testimoniato per se stessi questi nefiti avanzarono con diligenza per mettere le mani nel suo fianco e sentire le impronte dei chiodi nei suoi piedi in modo da poter testimoniare personalmente che si trattava del Cristo allo stesso modo molte persone fedeli che abbiamo studiato quest'anno nel Nuovo Testamento avevano atteso ansiosamente la venuta di Cristo lasciarono i loro campi i banchi da lavoro e i tavoli da pranzo e lo seguirono lo incalzarono si sedettero con Lui noi siamo tanto ansiosi di testimoniare personalmente quanto le folle descritte nelle scritture le benedizioni che noi ricerchiamo sono meno necessarie delle loro quando Cristo fece fisicamente visita ai nefiti presso il loro tempio il suo invito non fu quello di stare lontano e di guardarlo ma di toccarlo di sentire personalmente la realtà del Salvatore dell'umanità come possiamo avvicinarci abbastanza da ottenere una testimonianza personale di Gesù Cristo questo potrebbe far parte di ciò che mio padre stava cercando di insegnarmi sebbene non possiamo godere della stessa vicinanza fisica di coloro che hanno camminato con Cristo durante il suo ministero terreno tramite lo Spirito Santo possiamo sentire il suo potere ogni giorno tutto quello che ci serve le giovani donne di tutto il mondo mi hanno insegnato molto sul cercare Cristo e ottenere una testimonianza quotidiana e personale di Lui condividerò la saggezza di due di loro Livi guarda la conferenza generale sin dalla nascita infatti nella sua casa è tradizione guardare tutte e cinque le sessioni in famiglia in passato la conferenza per Livi aveva significato scarabocchiare o schiacciare qualche involontario pisolino ma la conferenza generale dell'ottobre scorso è stata diversa è diventata personale questa volta Livi ha deciso di accoglierla attivamente ha silenziato il cellulare e ha preso appunti sui suggerimenti dello spirito è rimasta meravigliata nel sentire le cose specifiche che Dio voleva che ascoltasse e facesse questa decisione ha fatto la differenza nella sua vita immediatamente pochi giorni dopo le sue amiche l'hanno invitata a vedere un film inappropriato la sua riflessione è stata ho sentito le parole e lo spirito della conferenza tornare nel mio cuore e mi sono ritrovata a rifiutare il loro invito ha anche reso testimonianza del salvatore nel suo rione dopo questi eventi ha dichiarato la cosa straordinaria è stata che quando mi sono ritrovata a testimoniare che Gesù è il Cristo ho sentito lo spirito santo che me lo ha riconfermato Livi non è rimbalzata come un sasso sulla superficie del fine settimana di quella conferenza si è immersa mente e spirito e vi ha trovato il salvatore e poi c'è Maddy quando la sua famiglia ha smesso di andare in chiesa Maddy era confusa e non era sicura sul da farsi si è resa conto che mancava qualcosa di significativo così a 13 anni Maddy ha iniziato ad andare in chiesa da sola anche se a volte essere sola era difficile e scomodo sapeva di poter trovare il salvatore in chiesa e voleva stare dove si trovava lui ha detto in chiesa la mia anima si sentiva a casa Maddy si è aggrappata al fatto che la sua famiglia era stata suggellata per l'eternità ha iniziato a portare i suoi fratelli più piccoli con sé in chiesa e a studiare le scritture con loro a casa alla fine sua madre ha iniziato a unirsi a loro Maddy ha spiegato alla mamma il suo desiderio di svolgere una missione e le ha chiesto se poteva prepararsi così da andare al tempio con lei oggi Maddy all'MTC sta servendo sta testimoniando di Cristo il suo esempio ha aiutato entrambi i suoi genitori a tornare al tempio e a Cristo come Livy e Maddy se scegliamo di cercare Cristo lo Spirito testimonierà di Lui in molte situazioni diverse queste testimonianze dello Spirito giungono quando digiuniamo preghiamo aspettiamo e continuiamo ad andare avanti la nostra vicinanza a Cristo cresce quando rendiamo spesso il culto nel tempio ci pentiamo ogni giorno studiamo le scritture andiamo in chiesa e frequentiamo il seminario meditiamo sulla nostra benedizione patriarcale riceviamo le ordinanze e onoriamo le sacre alleanze tutte queste cose invitano lo Spirito a illuminare la nostra mente e portano ulteriore protezione ma noi le onoriamo come sacre occasioni per rendere testimonianza di Cristo sono andata al tempio molte volte ma quando rendo il culto nella casa del Signore questo mi cambia a volte mentre digiuno mi ritrovo semplicemente affamata ma altre volte mi nutro abbondantemente dello Spirito a volte ho bisbigliato preghiere ripetitive abitudinarie ma sono anche andata desiderosa di ricevere consigli dal Signore tramite la preghiera c'è potere nel rendere queste sacre abitudini meno una lista di cose da fare e più una testimonianza il processo sarà graduale ma si evolverà con la partecipazione quotidiana e attiva e con esperienze significative con Cristo quando ascoltiamo costantemente i Suoi insegnamenti e agiamo in base ad essi otteniamo una testimonianza di Lui costruiamo un rapporto con Lui e con il nostro Padre Celeste iniziamo a diventare come loro l'avversario fa talmente tanto rumore che può essere difficile udire la voce del Signore il nostro mondo le nostre difficoltà non si acquieteranno ma possiamo essere affamati e assetati delle cose di Cristo per ascoltarlo con chiarezza dobbiamo creare una memoria muscolare di discepolato e testimonianza che ci faccia concentrare ogni giorno sulla nostra fiducia nel Salvatore mio padre se ne è andato da più di undici anni ma le sue parole sono vive in me Bonnie non rinunciare mai all'opportunità di testimoniare di Cristo vi invito a unirvi a me nell'accettare il suo invito cercate Cristo ovunque vi prometto che ci sarà la vera gioia dipende dalla nostra volontà di avvicinarci a Cristo ed esserne personalmente testimoni sappiamo che negli ultimi giorni ogni ginocchio si piegherà ed ogni lingua confesserà che Gesù è il Cristo prego che questa testimonianza diventi un'esperienza normale e naturale per noi adesso che coglieremo ogni occasione per testimoniare con gioia Gesù Cristo vive oh quanto lo amo quanto sono grata per la sua espiazione infinita che ha reso la vita eterna una possibilità e l'immortalità una realtà per tutti noi testimonio della bontà e della grande gloria del nostro Salvatore nel suo sacro nome nel nome di Gesù Cristo Amen Salvatore Amen Salvatore Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Beautiful day of peace and rest Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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